. Francesco Monte e altri tre espulsi dallIsola dei Famosi? La decisione cruciale Mediaset vuole espellere Francesco Monte ed altri tre membri dellIsola per la questione droga? Ecco lindiscrezione shock. . L Cancelletto Isola dei Famosi continua a tenere con il fiato sospeso i concorrenti ed i telespettatori per quanto riguarda la cruciale questione della Cancelletto droga portata, molto probabilmente, nel reality da Cancelletto Francesco Monte. . A seguito della piazzata di Eva Enger dello scorso lunedì 29 gennaio, in cui la donna accusò Francesco Monte di aver portato Marijuana sullIsola e di averla fumata in compagnia di altri naufraghi, i vertici della trasmissione si sono riuniti per decidere le sorti dei presunti concorrenti coinvolti in questa incresciosa vicenda. . Lindiscrezione di Alberto Dandolo su Dagospia, Mediaset squalificherà dei concorrenti? Stando a quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, pare che la redazione stia valutando lipotesi di espellere dal programma alcuni membri. . A rischio squalifica vi sarebbe non solo Francesco Monte ma anche Nadia Rinaldi, un membro della produzione e addirittura un personaggio che riveste un ruolo pesante e principale lì in Honduras. . I nominativi di queste ultime due persone non sono ancora emersi per il momento ma la curiosità continua ad essere alle stelle. . Nel frattempo sul mondo dei sociali commenti piovono incessantemente, tra chi continua a sostenere Francesco Monte e chi, invece, lo condanna fortemente, come ad esempio il Moige, movimento italiano Genitori, che reputa assolutamente inadatti e diseducativi programmi di tale genere e vicende di questo tipo. . Anche il fratello di Monte ha contribuito suo malgrado a peggiorare la situazione. Francesco Monte in una brutta posizione. . Il ragazzo, suo malgrado, si è reso protagonista di un video nel quale apparivano lui e lex di Rosa Perrotta, altra concorrente del reality show, mentre erano intenti a fumare una particolare sigaretta molto simile ad una canna. . . Queste riprese hanno suscitato molto scalpore ed hanno contribuito ad aggravare la posizione dell'ex tronista di Uomini e Donne. Il filmato è stato, infatti, rimosso seppur siano ancora in giro di fermo immagine della serata. . Inconsapevolmente, dunque, lo stesso fratello di Francesco ha rovinato il ragazzo, video, ponendolo in una situazione ancora più complicata di prima. La domanda, tuttavia, adesso resta solo una, quale decisione prenderà Mediaset? Espellerà davvero Francesco Monte, Nadia Rinaldi e gli altri personaggi, video virgola misteriosi oppure opterà per una decisione molto più leggera e tranquilla per i protagonisti di questo episodio? Non ci resta che attendere lunedì prossimo 5 febbraio per sapere tutta la verità sulla questione. . .